mi sto divertendo tantissimo con la corazzata italiana premium di livello 9 giuseppe verdi prima di entrare nel merito del vivo come sempre ragazzi se questi contenuti sono di vostro interesse iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuno dei miei caricamenti se volete provare il gioco completamente gratuito come sempre trovate il link in descrizione con alcuni vantaggi allora ci sono tante cose da dire nella parte iniziale ne dirò molte poi partita gameplay in diretta ok così commento in diretta quello che succede e i movimenti e poi conclusioni finali allora equipaggiamento partiamo col dire subito che abbiamo una resistenza di 69.100 punti protezione siluro riduzione danno 27% artiglieria cannoni importante importante questo passaggio da 406 tempo di ricarica 27.3 abbiamo la possibilità di utilizzare le he anziché le sap differenza con il ramo italiano le ap fanno un danno di 12.600 punti le he 5.700 penetrazione 68 gitta da massima 19.1 che possiamo estendere tramite l'aerospottino più 20% altro passaggio importante secondarie sap da 90 mm che penetrano 26 fino a 10.5 da 152 penetrano 42 per quanto riguarda l'incursione aerea contro i sommergibili nemici andiamo ad arrivare arriviamo fino a 10 km danno 4620 tempo di ricarica 30 secondi difesa contraria standard gittata 4.6 km danno continuo 357 danno delle esplosioni dei proiettili 1463 con 8 colpi sparati appunto in una salva proiettili esplosivi manovrabilità molto interessante 33.6 nodi abbastanza rapida un po' pesantuccia ma non troppo ok mimetizzazione 13.2 andiamo a mettere quindi la ricarica dei cannoni mimetismo in più io qui ci vado a mettere la propulsione ok distanza aumentata per quanto riguarda la portata delle secondarie sistema di controlli danni modificato 1 e poi io qui vado a mettere squadra controllo danni modificato 1 più 40 per cento del tempo di azione del nostro consumabile appunto controllo danni che arriva a 23.1 luigi sanzonetti capitano d'obbligo speciale per l'italia riserve nascoste lunga portata e anche fuoco rapido i talenti che si possono attivare mettiamo quindi poi alimentatore dei cannoni anche se il cambio dei proiettili potreste anche decidere di levarlo per magari preservare o specialista delle riparazioni meno 3 per cento oppure manutenzione preventiva o ancora va bene esperto di demolizioni per dare più potenza contro i sommergibili vado a mettere poi esperto in difesa contro le anti sommergibili solitamente metto bersaglio prioritario però questa skill è molto interessante meno 15 per cento al tempo di preparazione e di ricarica dei consumabili da nave quando l'anti aerea spara tutto sulle secondarie per cercare di sfruttarle scarica di adrenalina obbligatoria proiettili a lunga gittata e anche puntamento manuale batteria secondaria esperto delle riparazioni e poi esperto di occultamento questa è la presentazione a 360 gradi della giuseppe verdi andiamo a vedere una partita e poi conclusioni finali e mi aggancerò per un futuro video restate fino alla fine così avete tutti i pezzi del puzzle via andiamo a giocare una partita con la nostra giuseppe verdi siamo in un matchmaking con due cacciator perinieri due sommergibile lacrime del deserto la mappa modalità supremazia ci sono anche navi di livello 10 e di livello 8 3 caccia 3 incrociatori allora vediamo un attimino cosa riusciamo a fare dunque 190 kid jinan jinan non so perché l'avevo visto doppio colombo ok vanguard hyper zau e poi tutte le altre navi allora cercheremo come sempre di dare un supporto i nostri le nostre cariche arrivano fino a 10 chilometri quindi vediamo se riusciamo a individuare il sommergibile nemico e a colpirlo in maniera corretta sinceramente io una nave su bravo la manderei perché u190 spot alfa ok daring u190 sono sistemati su charlie il kid lo manderei su bravo o tutt'al più si stacca il daring e va su bravo però lasciare bravo scoperto dove non sappiamo quel che succede vabbè vediamo cosa come va però in definitiva lo spotting su bravo è importante perché se dovesse andare un cacciatore periniere lo kappa non so un bordello poi poi dietro l'isola ma ancora si giocano i petro nel 2022 ancora per poco li abbiamo un duncan ok ha fatto radar il sommergibile si è fatto spottare c'è radar l'ha fatto il petro si è fatto spottare dobbiamo affrontare plus sen duncan petro con una giuseppe verdi certo va bene ce la faremo allora qui la tattica è ecco però mi serviva lo spotto su bravo quindi la tattica già un po me l'hanno come dire me l'hanno limitata perché altrimenti io avrei preso un'altra posizione questa visuale è molto buona per capire quello che succede ok vi fa vedere un'altra vi da un'altra prospettiva diciamo veneto cuniberti no vado sulla vado sul duncan vado sul duncan perché tanto il cuniberti mo mi va è un tiro un po complicato non è proprio di lato ok preferisco più un qualcosa di sicuro di cattivo sul duncan proviamo a insistere un po sul duncan lo jinan devi mettere il fumo e devi sparare cioè non mi sembra molto complicato da fare abbiamo già visto il jinan tra l'altro non so se c'è il sommergibile loro qua e perché darmi 2000 in più ovviamente no eh ragazzi sta 2000 devo dargli io il colpo di grazia o per favore ci pensate voi ora possiamo andare sul cuniberti sparo ma non sono convinto sommergibile nemico ancora non ne vedo ma mica mai una carica va giusto per curiosità vedi che hanno cappato bravo e la corazzata che avanza allora ragazzi ragazzi un attimo solo dobbiamo riordinare un attimo le idee via l'aereo siamo un attimo blind eh ma è tutto tempo che si perde però perché io potrei sparare secco a sinistra potenza al massimo se gli ha il brussel spara spariamo anche noi sono spottato spariamo a prescindere c'è qualcosa sulla sinistra o per meglio dire c'è c'è la possibilità che ci sia un sommergibile nei paraggi mi sta guardando ma lui non mi guarda in realtà quindi continuiamo io accetterei molto l'uno contro l'uno contro la veneto recuperiamo un po' di vita ok comunque vorrei far notare le legnate che tira la nave ok cioè non so fanno male fanno abbastanza male no bravo l'hai tenuto fin troppo l'hai tenuto occhio 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 il cuniberti occhio tuo 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 colombo qualcuno dici anche l'oaglio sono spottato sta cosa non mi piace per niente è il sommergibile dai è il sommergibile basta qua sta qua sta qua colpo diretto due colpi diretti sta proprio qua bro sta proprio qua e qui c'è anche la veneto allora lui l'ha messo già da un po' il fumo solo che l'aero fighter l'ho usato prima o è stato distrutto non ho ben capito sinceramente dove è finito il mio aero fighter vabbè dai conserviamoci un attimo la carica qui dobbiamo fare due cose ha sparato spariamo facciamo male sommergibile sta da qualche parte qua pirata secca a destra secca a destra sommergibile sta qua comunque ha usato male il fumo proviamo va bene dopo uh hai visto che l'ho preso sta proprio qua ah 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 eppure non avevo nessun riferimento perché l'ho chiamato perché bene o male anziché tenere le cariche ferme a bordo cioè chiamatele miseria boom sta qua dai colpo di esplosione ancora una falla sta fermo là sta dormendo mi facciamo male ci prendiamo anche il cap tra l'altro boom questa volta niente boom si è mosso avviciniamoci andiamo sotto l'isola andiamo sotto l'isola mi servono le secondarie e due minuti il fumo ovviamente l'uaglio è un osso duro come nave però vediamo di là la situazione sembra tranquilla dobbiamo solo far danno mi verrebbero a dire secondarie in azione voglio provare un colpo sulla prusen ah stava uscendo il petro vabbè dai non fa nulla è detonato all'uaglio eh no ma le bandierine non servono a niente ragazzi ragazzi imparate a mettere le bandierine poi ne riparliamo la bandierina della detonazione vi dà la probabilità del 100% che una determinata azione non succeda una determinata situazione un evento ok perché non mettete le bandierine della detonazione ditemelo non capisco non capisco non capisco veramente questa scelta di non metterle va vabbè fate come volete andiamo sulla Bismarck non ce la faccio dobbiamo farmare l'ultimo danno abbiamo fatto 150 comunque in 10 minuti che non è poco 9000C ok vabbè è rimasta solo la prusen si è comportata abbastanza bene la nave però dobbiamo anche dirci una cosa che su bravo la vittorio veneto ha utilizzato un fumo in maniera errata non c'era motivo di mettere il fumo ora io non so chi lo stesse guardando devo dire la verità però la miseria poi sono arrivato io ho messo il fumo e ho accettato quello scontro ma non sono stato fermo su alpa ok comunque mi sono mosso 4 potremmo fare anche la quinta vabbè una partita abbastanza interessante tutto sommato 167 3 falle a bordo del sommergibile nemico una base catturata eravamo contro navi anche di livello superiore 167 4 kill 43 colpi qua abbiamo fatto però la partita è durata sui 12 minuti qui abbiamo fatto sui 2002 e 2003 2004 e 64 qualcosa in più me l'ha pagata vabbè mi aspettavo qualcosina in meno perché la partita è durata 10 minuti non 12 vabbè è stata una partita abbastanza interessante abbiamo guadagnato tra l'altro una valanga di crediti non so se c'era qualche emissione attiva vabbè dai torniamo nel porto conclusioni finali se ci pensate la Giuseppe Verdi secondo la mia opinione va a mettere delle basi importanti per una futura supernave italiana ora io non so nulla perché non è uscito nessun articolo in merito a una supernave italiana non sappiamo se sarà un cacciatore periniere un incrociatore o una corazzata però ritengo che se dovessero appunto studiare una supernave italiana si potrebbe partire dalla Giuseppe Verdi delle SAP secondarie molto interessanti magari ci diamo giusto un chilometro in più abbiamo i 406 molto performanti abbiamo comunque sia la possibilità di utilizzare il fumo sono tutte caratteristiche che sebbene bilanciate potrebbero far utilizzare ci spero una supercorazzata italiana con i controfiocchi qualcuno potrebbe pensare che poi sarebbe troppo potente però mi verrebbero a dire che altrimenti non sarebbe supernave però ripeto questo potrebbe essere un argomento di un video ben specifico la Giuseppe Verdi ora come ora diciamo presa la nave è davvero molto molto divertente mi sono trovato spesso e volentieri in delle situazioni davvero esilaranti non solo con i canoni principali ma anche con la possibilità di sparare con le secondarie e di mettere il fumo con l'aerospotino che spotta ragazzi video terminato io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay ciao ciao